un sistema molto simile allo spray è sicuramente lo snow se andiamo a crearci in viewport nello stesso identico modo quindi scegliendo snow cliccando in un punto nella viewport e trascinando notiamo che l'icona è praticamente identica e i parametri sono molto molto simili di fatti abbiamo il viewport count quindi quante particelle vedremo in viewport il render count il flake sites che non è nient'altro che la dimensione delle particles in questo caso la velocità la variazione il tumblr e il tumblr rate questi parametri aggiuntivi che sono il tumblr rate il tumblr e il flake sono molto simili ad altri che vedremo prossimamente e sono dei parametri aggiuntivi che servono più che altro per regolare alcuni aspetti di fatti lo snow come dice appunto il nome serve per generare la caduta della neve o per simulare la stessa di fatti se attiviamo vediamo che abbiamo delle particles che sono a forma di fiocco di neve e se renderizziamo noteremo infatti questi fiocchi di neve con il tumblr possiamo andare a impostare come gireranno diciamo così i vari fiocchi e il rate invece mi va a simulare ogni x rate avremo una variazione quindi abbiamo una variazione che riguarda anche la scala che stiamo utilizzando la scala temporale vi ricordo che il rate è impostabile dal time configurator abbiamo la possibilità di scegliere l'ntsc a 30 fps il pal per 25 fps il film 24 fps oppure personalizzarlo quindi è indifferente questa tipologia abbiamo la visualizzazione se a fiocco oppure a punto oppure a tx e in fase di render se renderizzare un punto a 6 quindi una stella vera e propria di fiocco come abbiamo visto precedentemente magari aumentiamo la sua dimensione così possiamo vederlo meglio o se triangolare o se a faccia come era per l'altro abbiamo anche in questo caso la possibilità di controllare il tempo quindi quando inizierà quando moriranno e se visualizzarlo in modalità birth rate quindi se crearne ogni x rate e anche in questo caso abbiamo la possibilità di vedere le sue dimensioni dimensioni che naturalmente andranno a occupare nello spazio e se nascondere oppure no l'icona naturalmente la visualizzazione dell'icona in fase di rendering non è assolutamente non è contemplata nel senso che non è visibile l'icona nel rendering è soltanto visibile in fase di viewport ed è molto comoda tenerla visibile poiché io se vado a scorrere nel tempo se mi porto a zero non vedrò assolutamente la mia icona quindi non potrò andarla a selezionare se non dai comandi di selezione come il select by name che mi permette di andare a selezionare quindi per una comodità anche di visualizzazione preferisco sempre mantenere le icone attive se non è per una questione di magari di preview durante il lavoro